Disagi in vista per i pendolari in questa estate 2016, come ogni anno anche stavolta sono previsti i tagli di alcune tratte locali. Chi usa il treno dovrà fare a meno di 44 regionali cosiddetti ad andamento lento, particolarmente colpite le tratte Verona-Vicenza-Padova-Venezia, Venezia-Padova-Rovigo e la Padova-Campo-San Piero-Castelfranco-Paese-Previso. Disagi per i pendolari ma anche per gli studenti universitari che seguono le lezioni a Padova e che a pomeriggio tornano a casa. Dal 12 giugno alla mattina non ci saranno più i treni delle 8,35 per Venezia-Santa Lucia, delle 8,46 per Castelfranco-Treviso, delle 8,49 per Mestre. Al pomeriggio invece non partiranno più per due mesi i locali delle 18,35 per Venezia, delle 19,24 per Vicenza, delle 19,41 per Terme-Ugane-Monserice-Rovigo, delle 19,56 per Verona-Brescia e delle 21,56 per Vicenza-Verona. Insomma la vita dei pendolari d'estate si fa sempre più dura. Intanto proprio in questi giorni Trenitalia ha introdotto una novità per quelli che utilizzano le frecce rosse, bianche e argento, ovvero i treni più costosi ad alta velocità. Per ogni 20 euro di spesa effettuata di sportelli Trenitalia regala un bonus di 10 euro da utilizzare nei viaggi successivi, ma questo probabilmente ai pendolari veneti interessa poco.